Un cristiano che non prende sul serio la dimensione del martirio non ha capito ancora la strada che Gesù ci ha insegnato. Così Papa Francesco ha la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Nel corso dell'omilia il pontifici ha rimarcato che i discepoli del Figlio di Dio hanno la possibilità di portare avanti ogni giorno la sua fecondità pasquale in vari modi, non solo con il sangue, proteggendo i figli, difendendo la famiglia, sopportando una malattia, tutto senza scandalizzarsi ed essendo sostenuti dallo Spirito Santo. Papa Bergoglio ha poi ricordato il colloquio telefonico avuto ieri con il patriarca copto Tawadros nel giorno dell'amicizia copto-cattolica. Ma io ricordavo i suoi fedeli che sono stati sgossati sulla spiaggia perché cristiani. E questi fedeli, per la forza che gli ha dato lo Spirito Santo, non si sono scandalizzati. Morivano col nome di Gesù sulle labbre. C'era la forza dello Spirito. La testimonianza. È vero, questo è proprio il martirio, la testimonianza suprema. La testimonianza. La testimonianza.